Ciao a tutti, oggi parleremo di Kikad. Prima di iniziare, un paio di punti, iniziando con chi sono io. Il mio nome è Elias Rebernich, di lavoro faccio lo sviluppatore embedded in una piccola aziendina a Trieste. Di non lavoro, invece, ho fondato un hackerspace a Trieste, che si chiama MeetLab. Immagino che tutti voi abbiate sentito parlare degli hackerspace e sapete già cosa sono. Se no, fatemi un cenno. Allora, cos'è un circuito elettrico? Prima di parlare di Kikad, che è un tool per sviluppare circuiti elettrici, bisogna capire bene cos'è anche un circuito elettrico. Questa bellissima definizione presa dal primo paragrafo di Wikipedia, secondo me, è un po' noiosa. L'ho inclusa per dare sfogo alla mia parte da fisico. Però, a me piace più una definizione un po' più funzionale, quindi è un sistema di componenti interconnessi tra di loro, che svolge di solito un determinato compito. Quindi è l'equivalente di un programma software, però cristallizzato in qualcosa di fisico che puoi prendere in mano. Tipo questo. Parliamo di EDA. Gli EDA servono a aiutare il progettista a sviluppare principalmente due cose. Una di queste è lo schema elettrico. Lo schema elettrico è quello che ci dice come sono collegati a livello logico tra di loro tutti i blocchi del circuito. Ogni componente è rappresentato da un simbolo, quindi non da così come uno può vederlo nel mondo reale, nel mondo fisico, ma da un simbolo che denota il suo ruolo. Lo schema elettrico ci risponde un po' alla domanda quali sono i componenti, cosa utilizzerò e cosa è collegato a cosa. Quindi dove sono le connessioni e come si interfacciano tra di loro questi componenti. L'altra parte è invece la controparte fisica, cioè il circuito stampato. Questo qui ci dice come sono disposti i componenti, come fisicamente sono collegati, cioè dove passa la traccia di rame che collega i vari piedini. Illustra i vari strati del circuito, se il circuito ha più strati. Di solito quelli che vediamo adesso a livello commerciale sono dagli 8 ai 12-16 strati. EDA sta per Electronic Design Automation ed è indispensabile al giorno d'oggi. Sono finiti i tempi in cui si progettava con il pennino direttamente sul circuito stampato. Oddio, c'è gente che lo fa ancora, principalmente radiomatori, che hanno forse circuiti un po' più semplici, da un punto di vista strettamente fisico. Mentre al giorno d'oggi si usa solo e esclusivamente tool informatici per assistere alla progettazione. Come funziona un po' il workflow di progettare uno schema elettrico, di progettare un circuito stampato? Si inizia dallo schema elettrico. Ancora prima in verità c'è lo step zero che definisce cosa vogliamo fare, quindi quale sarà il risultato finale di questo endeavor. Subito dopo si passa di solito al disegno dello schema elettrico che ci dice ovviamente a livello logico come verranno collegate le cose insieme. Poi c'è la progettazione del circuito stampato, quindi realizzazione fisica, dimensioni, eccetera, eccetera. L'ultimo step, che è l'ultimo step solo di quanto parleremo oggi, è la fabbricazione del circuito. Quindi ho i miei file, adesso devo effettivamente realizzarlo. Poi ci sanno montaggio, utilizzo e varie cose. Dove può aiutarci effettivamente il software? Perché si usa il software e non il caro vecchio foglio di carta che magari è più intuitivo da usare? La risposta semplice e banale più o meno dappertutto, perché come esseri umani ci dimentichiamo spesso le cose. Nella parte del disegno del schematico il ruolo principale è proprio la riduzione degli errori. Quindi ci sono delle routine all'interno di tutti i maggiori EDA che ci dicono se abbiamo fatto delle connessioni che sono logicamente sbagliate. Per esempio, ho preso l'uscita di un regolatore e l'ho collegata all'uscita di un altro regolatore. Quindi cose che vanno in conflitto tra di loro. Ho preso un output e l'ho collegata a un altro output. Questo non ha senso. Oltre a questo ci permette di riutilizzare parti di schematico già pronte. Quindi, come in una specie di gioco con i Lego, io ho il mio circuito che si occupa di prendere una tensione arbitraria e generarmi 5 volt regolari. Posso prenderlo e copiarlo se mi serve da qualche altra parte in qualche altro progetto. Lo prendo e lo copio direttamente. Nella fase di progettazione del circuito, diciamo che diventa più importante proprio questo. in termini di sia riduzione degli errori, quindi tracce troppo vicine. Qui andiamo a interfacciarsi proprio con la parte fisica del circuito. Cioè, io non posso realizzare un circuito che ha le tracce più vicine di X millimetri perché se no non riesco con l'acido a sciogliere il rame che mi sta tra le due tracce e quindi queste due tracce risulteranno collegate insieme e il circuito non funzionerà. Tracce sovrapposte, però simili e ovvie ragioni. In questo caso invece non ha solo una funzione di riduzione degli errori ma anche un sistema di assistenza, per esempio, al routing, cioè allo sbroglio. Cos'è lo sbroglio? Io ho il mio circuito, ho messo i miei componenti dove mi piace e adesso devo vedere come li collego tra di loro. Ovviamente se io ho quattro layer, ho due layer, non posso far incrociare le tracce perché fisicamente se due tracce sono sullo stesso layer incrociate sono collegate insieme. Quindi devo trovare il modo ottimale per collegare tutti i pin dove devono essere collegati senza ovviamente avere un layer per ogni traccia, perché se no diventa costoso. Per questo ci aiutano sistemi di routing che possono essere automatici o semi-automatici. L'automatico prende il progetto così com'è e prova con un algoritmo a generare delle tracce che collegano tutti i pin. I risultati di questa cosa del routing automatico non supervisionato sono di solito piuttosto brutti. L'algoritmo fa quello che riesce, però di solito non si usa lo sbroglio automatico dall'inizio. Di solito si usa un approccio un po' ibrido, cioè brutto prima le connessioni che vedo che sono più importanti e poi resto a fare da un automatico. Lì ho messo semi perché esistono dei tool che ci aiutano a fare il routing manuale, però ci aiutano per altre cose. Qual è il tool che si chiama PushPoolRouter, che ci permette, lo vedremo dopo anche, alla fine ci sarà una piccola demo, ve lo farò vedere. Quindi sposta le tracce automaticamente, se io devo far passare una traccia in un posto dove ci sono altre tracce già fatte, mi sposto automaticamente tutte le tracce e io posso passare la mia traccia oltre. Un'altra cosa è anche il placement automatico, quindi rispettando le connessioni che devo fare tra i vari componenti, il software può dirmi dove mi conviene più o meno piazzare il componente che voglio piazzare. Fatta la piccola introduzione teorica, parliamo di Kikad. Kikad è un software per EDA, è viaggiato sotto licenza GPL, quindi free open source, e cross-platform, completamente cross-platform, quindi Linux, Mac OS X, Windows, forse anche qualche altra piattaforma. Fa compagnia a altre suite EDA che sono sempre open source, ma sono secondo me di qualità forse un po' inferiore, una EG EDA che se non mi sbaglio penso sia abbandonata in questo momento, non so se è stato... Sì, sono ancora sviluppate? Come? Sì, sì, beh, anche Kikad in verità. Dopo lo vediamo. C'è Fritzing, è un programma relativamente recente, e ha un approccio in verità un po' interessante al tutto, perché ti permette di progettare i tuoi circuiti sopra una breadboard, cioè una breadboard virtuale, quindi è più vicino a magari un hobbysta, a uno che si interfaccia per la prima volta con questo tipo di programmi. È forse un po' più intuitivo. Kikad è sviluppato attivamente, l'ultima release è stata proprio un paio di giorni fa, la 4.0.4, tra l'altro ha dietro di sé personaggi e entità imponenti, tipo il CERN. Il CERN ha, se non sbaglio, due sviluppatori che sono full time su Kikad, anche perché Kikad viene utilizzato anche al CERN. Questa è un po' l'intrafaccia grafica del programma che si occupa di disegnare lo schema elettrico. Qui vedete un esempio di un progetto che è stato realizzato in MeetLab. Lo vedremo dopo durante la demo un po' in dettaglio. Questo invece è così come si vede un progetto di un circuito stampato. Questi che vedete qua sono componenti, componenti, questi qua sono componenti elettronici molto piccoli, questa schedina qua è grande circa così. Questi sono anche componenti, queste righine verte invece sono effettive connessioni di rame. Vediamo un po'. Kikad rispetta la filosofia Unix, nel senso fai una cosa, falla bene, è diviso in tanti sottoprogrammi, quelli principali sono i schema, che serve per disegnare gli schematici che abbiamo visto, PCB new, che serve per progettare PCB, e poi ci sono tanti tool ausiliari, più o meno ausiliari in verità, c'è il CVPCB che ci serve per dire, ok, il simbolo che abbiamo visto qui, questi simboletti qui, corrispondono effettivamente a questo componente qui. Quindi ci permette di fare questa associazione, che è una cosa piuttosto importante, non tutti i tool hanno questo, questo mi permette di liberare, diciamo, slegare il simbolo, quindi la cosa logica del mio circuito, dall'effettiva implementazione, perché esistono più implementazioni, più tipi di questi circuiti, che fanno la stessa funzione logica. Poi c'è GERBview, che viene principalmente usato per ispezionare, diciamo, i file finiti, prima di mandarli in produzione, e poi c'è PCB Calculator, che diciamo ha un paio di formulette utili quando si disegna PCB, e poi ce ne sono anche un paio d'altri, che sono forse un po' meno importanti. In schema, dicevamo, serve a disegnare circuiti elettrici, e ha come caratteristiche principali la possibilità di fare un RC, quindi ci sono un paio di checklist che lui controlla internamente. Prima di esportare, diciamo, il progetto, ti segnala tutti questi errori, quindi tutti i pin che non sono collegati, ti dice guarda che questo pin dovresti collegarlo, oppure mettere un marchio particolare che mi dice questo pin, non lo collego, e va bene così. Pin in conflitto, cose del genere. Mi permette poi, una volta disegnato il mio circuito, di esportare la netlist. La netlist non è nient'altro che, come è dal suo nome, la lista di tutti i net, cioè la lista di tutte le connessioni tra i componenti. Quindi questa mi permette di avere l'elenco dei componenti, per poi importarlo in altri programmi, e per fare simulazioni Spice. Quindi posso simulare come si comporterà il mio circuito con un altro programma, che si chiama Spice appunto. Ha un sistema per esportare la BOM, quindi ho progettato il mio circuito, adesso voglio realizzarlo, devo comprare tutti i componenti che mi servono, generarmi la lista di componenti così io li compro. Ed è batteries included, quindi c'è già dentro di sé tutto un set di librerie che mi permette di poter iniziare già da zero a fare circuiti. PCB new, invece come caratteristiche principali ha questo push and shove router che muove automaticamente le tracce in giro quando cerco di portarne un'altra. Ed è una cosa che salva, diciamo, sembra una cosa un po' sciocca, ma in verità ti salva tante roture di scatole di ok, adesso sto facendo la traccia, sono arrivato a fine qua, ah, accidenti, non ho abbastanza spazio, adesso non mi permette di passare. Fermo la traccia, sposto tutte le altre, riprendo la traccia, che è una cosa che, diciamo, è molto time consuming. Ha una feature per equalizzare delle lunghezze, quindi queste due tracce devono avere la stessa lunghezza, fa in modo che lo abbiano e quindi genera una specie di zigzag per avere la stessa lunghezza, questo è importante, per esempio, quando si fanno circuiti, per esempio, i collegamenti RAM, dove è importante che il segnale arrivi contemporaneamente dall'altra parte. E c'è all'interno di un footprint editor, quindi mi permette di creare nuovi componenti, nuovo design di componenti. facciamo una piccola demo, come siamo col tempo. Allora, questa è la schermata principale, questo si chiama progetto, questi pulsanti mi permettono di aprire tutti i vari tool, adesso ne ho già uno aperto, che è questo. Questo qua è i schema, e qui c'è un circuito molto semplice, che è una batteria, una resistenza è un diodo LED. Allora, per prima cosa, una volta disegnato il circuito, si fa questa cosa qui, questa cosa qui si chiama annotazione automatica dello schematico, se riuscite, si vedono, tutti questi punti di domanda verranno sostituiti adesso da numeri, numeri consecutivi. Siamo sicuri? Eccoci qua. questo permette di mantenere dell'ordine all'interno del mio schematico, quando diventa complesso, so che i numeri partono in alto a sinistra e vanno a righe, diciamo, quindi so subito dove trovare una resistenza. Questo non è necessario, io posso anche decidere io i numeri che voglio assegnare alla resistenza, è solo una comodità in più. Questa bellissima coccinella è l'Electrical Rule Checker, posso farlo girare e non dovrebbe darmi nulla. Benissimo. Quindi questo circuito per lui è a posto. Bisogna dire che è una cosa anche abbastanza importante che questo Electrical Rule Check non fa miracoli, non è particolarmente intelligente, serve solo a evitare errori veramente grossolani. Ok, una volta questo, ho fatto questo, c'è da esportare la netlist, questo mi genera il file con tutte le connessioni e l'elenco di tutti i componenti. Ok, grazie. La bomba non ci interessa. Ok, adesso con questo pulsante qui, che si riesce a vedere bene, ha un simbolo di uno schematico davanti e il simbolo di un footprint. Un simbolo di uno schematico dietro e uno simbolo di un footprint davanti, mi permette di associare le due cose, quindi il simbolo con la realizzazione fisica. Adesso mi sta dicendo, perché Kikad è appena installato su questo computer, che CVPCB sta partendo per la prima volta e quindi devo scaricarmi le librerie. Questa è una cosa assolutamente normale, che spero, se la connessione è wifi, si è già impiantato. Bene. Ok. Allora, qui si può vedere, ah ma ce l'ha già. Allora, qui si può vedere, qui sono i miei componenti e qui, qui è il nome sullo schematico, quindi BT1, e qui è il nome del footprint. Quindi lui sa già che questa qua è una batteria che ha questa forma qui, adesso ce la troviamo. con questo pulsante io posso filtrare tutti i footprint che sono qua. Per esempio, beh, scelgo uno a caso. Posso vedere come sembra. Ecco, questo qua è quello che verrà disegnato se lo seleziono a questo, questo verrà disegnato sulla PCB. Queste, queste parti rossicce sono effettivamente rame, quello che verrà disegnato sul rame, mentre queste sono quelle che verrà disegnato con un inchiostro non conduttivo, un inchiostro normale. però questo non è quello che mi interessa. Vediamo. Ok, ci sono già. Bene. Purtroppo quando ce ne sono tante bisogna fare lo scroll fino a... Connectors. Ok. Quasi. Ok. Allora, questa è una discrete CR. Vabbè. Tu non c'entri niente. È una cosa che bisogna fare con molta pazienza. forse posso farlo vedere direttamente così. No. probabilmente non c'è la libreria aggiornata su questo computer. Vabbè, non è importante. Vediamo un'altra. Ok. questo qua è un po' questo qua è un po' più familiare. Questo qui è il classico disegno del LED che se qualcuno aveva visto un circuito stampato l'avrà visto sicuramente. Questo qua, come dicevo, è il rame. Quindi queste due forme sono quelle che verranno poi realizzate con rame. Mentre questo è l'inchiostro. Questo testo giallo di solito non viene scritto. Ok. Questa è una resistenza. Questa è una resistenza particolare. È una resistenza a montaggio superficiale. 0805 che è anche abbastanza piccolina. Ok. Fatto questo, salvo. E chiudo. Su. Qui salvo anche. E adesso apro PCB new con questo pulsante qui. Sì, non esiste la PCB. Voglio crearla. Ok. Adesso devo leggere la netlist. Con questo pulsante qui lui mi apre questa finestra che mi permette di leggere una netlist generata. Se va tutto bene. Se è andato tutto bene. Mi importa tutti i componenti. Ok. Qui, io userò adesso degli shortcut da tastiera. Ma questo è diciamo premendo M posso muovere i miei footprint intorno. Come potete vedere c'è un filetto un filetto bianco. Non so se si vede. Sì. Questo, diciamo, mi aiuta per vedere cosa quali saranno i componenti che dovranno essere vicini tra di loro. Ok. e si chiama questo qua Ratsnest. Poi arrivati qui io so che dato che è questo filetto bianco io devo collegare insieme queste due cose. Aggiungo una track keycard molto simpaticamente mi evidenzia le tracce che devo collegare passo per di qua se non so se si nota ma ci sono due sottili striscioline sopra e sotto la traccia principale non so se si vede quelle lì sono i limiti cioè dalle mie regole nessuna traccia può avvicinarsi oltre quelle due righine sennò viola le regole del DRC. Arrivato qui ok ah giusto questa è sull'altra parte questa ok ok troppo piccolo sto schermo per fare queste cose ci vuole uno schermo piuttosto grande altrimenti non vi sta tutta la toolbar e infatti qua non mi sta tutta la toolbar come riuscirò a selezionarlo così forse ok ok bene adesso ho fatto la mia connessione Kikad molto simpaticamente mi scrive anche il nome della net lungo i pad così so cosa è collegato insieme ok arrivati a questo punto io posso fare un plot quindi esportare in questo formato questo formato standard che si chiama formato gerber tutti i miei layer una volta una volta fatto questo li ha creati e questi file sono pronti per essere spediti alla fabbricazione quindi io posso vedere con gerb view vediamo se ho selezionato il layer giusto ok vedete questo è solo la parte di rame questo è un piedino del led altro piedino del led piedino resistenza piedino resistenza se ne prendo un altro questo qua questo qua è vuoto no cosa c'è queste qua sono solo le scritte e questa è la scritta della resistenza è mirorata perché è sull'altro lato del circuito se prendo il silkscreen top qui invece c'è il silkscreen del led questo strato dove le scritte sono fatte con questo inchiostro si chiama silkscreen ok bene questo è quanto concludendo questa piccola demo se volete potete farmi tap tap sulla spalla dove sarò in giro per l'esc per tutta la durata e vi faccio vedere cose un po' più complesse di questa magari se ci sono domande ma abbiamo penso ancora un po' di tempo come al solito non tutti insieme prego arriverà qualcuno il tuo lavoro devi interfacciare con altri che probabilmente usano allora disclaimer io non uso Kika dal lavoro uso Kika dal MeetLab ma al lavoro non uso Kika allora per interfacciarsi con altre persone si usa di solito o il pdf dello schematico oppure i file gerber del pcb quindi l'interoperabilità di solito se non devi effettivamente collaborare e fare il circuito insieme ad un'altra azienda di solito non si tendono ad avere problemi con i tipi di file c'è anche da dire che nel mondo industriale professionale ahimè si usa principalmente Altium che è un pacchetto che costa un occhio della testa sì fatto 100 le funzionalità dei pacchetti commerciali per quello che possa dire un obbista non si sentiva fatto 100 le funzionalità dei pacchetti avanzati dei pacchetti commerciali costa un occhio della testa Kikad per le esigenze di un obbista o obbista avanzato quanto arriva 99 50 per le esigenze di un obbista avanzato arriva a 80 80 90 in sostanza tu hai la maggior parte dei tool essendo open source quindi molto popolare tra l'ambiente maker trovi anche molte librerie già pronte ci sono una serie di progetti che diciamo si prendono cura di organizzare queste librerie anche uno di questi circuit hub quindi trovi tanto lavoro già pronto da disclaimer proprio questa alfa alfa da un paio di settimane è arrivato nel develop di Kikad la feature di poter simulare direttamente quindi avremo tra poco avremo il simulatore integrato direttamente nello schematic editor quindi in schema quindi secondo me io l'ho usato da hobbyista e non l'ho trovato abbastanza adeguato per i miei utilizzi meglio di Eagle sì perché puoi fare le board quanto grandi vuoi puoi fare sì non lo diremo si sente io ho letto che un produttore abbastanza conosciuto nell'ambiente che crea dell'hardware libero dei free hardware design dei mini pc dei single board computer e altri circuiti usano adesso keycat e come hardware rilasciano poi i file quello che era descritto era che poi se uno vuole aprirsi il loro progetto cioè quello che si può poi comprare come bot stampato scusami tieni il microfono un po' più verso in alto perché se no non sento tutto sì così ecco allora quello che scrivevano è che poi non si vede niente perché non c'è la lista dei componenti e questi componenti la lista dei loro componenti come lo fanno poi veramente il board e il design l'hanno creato anche rilasciato però su gtab quindi la mia domanda è come anche a livello generale per i componenti vengono gestiti se una certa azienda usa certi componenti per il loro board e io che magari voglio vedere se mai un board cioè il disegno di un board che ho preso cosa posso fare per poi avere tutto pronto eventualmente non so se in un rilascio di Kikat sarebbe da includere queste librerie di componenti di un certo produttore allora la domanda in sostanza era se io faccio la mia board con i miei footprint con i miei simboli e lì pubblico come o non lì pubblico come riesce qualcun altro a vedere i simboli tanto che non c'è la libreria ho capito bene? circa ok allora Kikat ha un meccanismo che si chiama library cache quindi di default tutti tutti i simboli e tutti i footprint che vengono utilizzati all'interno di un progetto vengono copiati all'interno di questa library cache questa library cache però essendo un file generato tante volte viene ignorato da git cioè tante volte gli sviluppatori lo ignorano perché è una cosa duplicata quindi magari tante volte nelle distribuzioni non viene aggiunta hai parlato di github in verità Kikat supporta le librerie dei footprint quindi la parte fisica la descrizione fisica del componente scaricabile direttamente da github cioè tu gli metti l'url e lui se la scarica e te la importa io vorrei se possibile ma non so se è previsto evitare quello perché se ho il pacchetto Debian di Kikat non vorrei poi scaricare qualcosa al di fuori del pacchetto Debian certo sì però purtroppo essendo questi questi pacchetti molti cioè ce ne sono tanti di svariate forme è un po' difficile includerli tutti cioè sarebbe anche diciamo Kikat parte con le sue solite batterie incluse quindi hai tutti i componenti di base e tutti i componenti di base e tutti i footprint di base sono già inclusi alcuni anche di vendor quindi hai chip della Texas o porte logiche della 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 ST non so quindi le cose di base ci sono per qualsiasi cosa qualsiasi cosa extra tu ma in me adesso come adesso devi scaricarti le distribuzioni quindi le librerie extra si potrebbe fare un pacchetto per ogni libreria però sarebbe forse un po' un overkill potrebbe anche fare un pacchetto di librerie extra si si potrebbe fare però bisogna decidere cosa metterci dentro per Debian funzionerebbe bene sì in verità basterebbe semplicemente formare un gruppo di persone che diciamo si dedicano a mantenere una serie di librerie extra che non sono presenti nelle librerie core di KeyCAD perché magari non ci interesse e fare un pacchetto fare un release è piuttosto facile insomma una volta che ce l'hai su github puoi anche sia taggarla e scaricarla dentro di un pacchetto Debian oppure inserirla direttamente con l'url da KeyCAD però bisogna trovare qualcuno che lo faccia altre domande? se ci sono altre domande trovatemi dopo o faremo magari un capannello grazie 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 grazie